con l'oggetto grafico 2d misura di angoli è possibile quotare gli angoli con un primo clic definiamo l'origine dell'angolo da quotare andremo di seguito con un secondo clic a fissare il punto a e con il terzo clic il punto b fissando i lati di cui vogliamo misurare l'angolo al cursore viene agganciata alla misura dell'angolo individuata la posizione occorre effettuare un ulteriore clic